La prima bandiera che salutiamo è quella del Kazakistan, la prima bandiera della Nazionale Kazaka, che si iscrivono sul ring, poi la bandiera della Zerbella, e poi quella del Lungheria. Ovviamente vi chiedo di applaudire, di incoraggiare queste afflette. Abbiamo già detto, forse la musica del film rock avrebbe più reso l'idea, ma salutiamovi con un applauso rincoraggiamola. Ed ora ovviamente la rappresentativa italiana, preceduta dalla bandiera, tricolore, il nostro tricolore. Allora prima di procedere con gli indi nazionali, ovviamente abbiamo modo alla rappresentativa italiana di schierarsi sul ring. Io chiamerò i nomi delle atlete che si affronteranno al centro del ring, si saluteranno e poi ritorneranno al loro posto. il primo incontro sarà quello fra Giovanna Marchese e Beatrix Cammar. Il secondo incontro fra Concella Marchese e Cristina Endre. Il terzo fra Angela Seraino e Agitia Abbasova. Il quarto incontro vedrà di fronte diretta Cipollone e Anakaim Agayeva. Il quinto incontro tra Terry Gordini e Vittoria Ismailova. Poi Alessia Mezziano affronterà Rima Volusenko del Kazakistan. Sara Coranza invece sarà di fronte con Alia Ambradehikova. Valentina Almerfi affronterà Aiema Aiznatto della Zepeda. Carmelia Nonniaco, Mariam Cabrainova della Zepeda. E infine Flavia Severin affronterà Razzat Gugbevaieva del Kazakistan. E ora ascoltiamo i Dini nazionali. Cominciamo con quello del Kazakistan. Grazie a tutti. 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 due professionisti italiani preceduti da altri due atleti, altri due punti supermassimi della categoria Elite. Dall'energia chiedo di segnali eventualmente di procedere con un altro internazionale, poi lo sconteremo dopo se c'è stata inversione sul nastro del programma della Senata. Forse ne va a seguire. 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 No, solo non è semplice No, solo non è semplice 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 Si suddivide il settore giovanile del pugilato Ogni sport ha la sua singolare denominazione C'è la Miss Che ci annuncia che siamo al primo round gli atleti ovviamente sono in preparazione l'azione, c'è un protocollo da seguire, un caschetto da indossare, i guantoni. Alvito ovviamente che controllerà se tutto è a posto, ho preso anche i paralenti e poi si potrà dare inizio al match, con il cronometrista Raffaele Ricciardi, responsabile della federazione cronometrista della provincia di Casetta che scandirà i tempi, il commissario di rione Maurizio Abba che raccoglierà i responsi e si vedrà in referta della riunione e ci auguriamo che il dottor Angelo Annunziata che il medico della riunione resti seduto per tutta la serata e non ci sia bisogno di avere un suo intervento, una sua consultazione. Gli arbitri lo ricordiamo, li ringraziamo per essere qui, sono Roberto Beppe, Domenico Meccaniello del comitato regionale della Campania, poi abbiamo Benedetto Danilo della Sicilia e Federico Davila della Calabria, sono arbitri internazionali. Lo ricordiamo, questa serata è stata organizzata dalla Eccension Box di Marcialise, con il centro campagna di una serie di sponsor che ringraziamo, tra i quali la concessionaria Autocasetta, la Fulgeni SR, la Reciclo Italiana, Sondibono, Celento Poponiere, Arduce, Enrico, Ferramenta, Vernici per Auto, Construzioni, Vito, Felice, Vita, SR, le società consortili del Marcialise Servizi. Tutto è pronto, ho esaurito il protocollo iniziale, fuori i secondi, prima ripresa. Grazie a tutti. 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 Seconda ripresa. Grazie a tutti. 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 Vai, gentilezza, vai! Vai, gentilezza! Vai, gentilezza, vai! 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 Quanta è l'ultima ripresa? Vai, gentilezza, vai! 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 Grazie. 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 Fuori in secondi. Terza ripresa. Grazie. Ha. Iscriviti 혜ff. Es is Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. 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 hanno. a tutti. la a tutti. 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 la la a tutti. 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 . a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.